Salve a tutti gli amici di Humus, dal nostro orto vi ricordiamo gli appuntamenti del mese di giugno che inizieranno domenica 12 in trasferta a Roma al Deturro con il nostro Food Experience per poi rientrare in sede venerdì 17 con il corso di alimentazione Agni e a seguire sabato 18 con un altro Food Experience l'ultimo fine settimana invece saremo a visitare la Natur Fiera del Mediterraneo a Reggio Calabria per quanto riguarda la frutta e la verdura di stagione inizia l'epoca dell'abbondanza della nostra madre terra quindi ci sono... la madre terra ci offre ciliegie, fragole, pesche, albicocche, susine, gelsi, zucchine, melanzane, i primi pomodori, i peperoni, cipolle, patate ancora alcuni asparagi delle fave vi ricordiamo che se ne avete la possibilità raccogliere per poi mangiare direttamente sul luogo dove avete raccolto è sempre fonte di benessere grazie